Meteor Piston produce pistoni in alluminio per numerose applicazioni del settore motoristico, escluso l'automotive e anche per il settore compressoristico. L'azienda nasce nel 1952 e cresce nel contesto del boom economico italiano ed europeo e dello sviluppo dell'utilizzo delle due orote, che è legato a marchi che rimarranno famosi, Piaggio, Lambretta, Ducati ed altri. La produzione di pistoni per questi motori permetterà al marchio di essere conosciuto in tutti i continenti. Negli anni 80 Meteor Piston differenzia la produzione fornendo come primo montaggio le più importanti case costruttrici di motoseghe e macchine per il gardening. Negli anni 90 il brand afferma anche il suo successo nell'aftermarket di questo settore come alternativa all'originale e con una vasta gamma di prodotti. A partire dal 2000 la produzione di pistoni si allarga ad altri settori di nicchia, paramotori, aeromodelli, kit per trasformazione di scooter e motori agricoli. Oltre all'implementazione e la produzione robotizzata di prodotti di serie, si potenzia e modernizza una linea dedicata per soddisfare anche piccoli lotti e prodotti speciali. Successivamente la gamma di ricambi si arricchisce con prodotti più sofisticati dedicati al mondo sportivo che apporta all'azienda una svolta di deciso grading tecnico. Nasce così la linea racing, prima nel settore dei motori due tempi card, sia come primo montaggio che aftermarket, e successivamente nei due tempi offroad. A completamento della gamma si avvia anche la produzione di pistoni forgiati per motori quattro tenti, primariamente nel settore offroad. Oggi Meteor fornisce pistoni di primo impianto a importanti costruttori italiani di moto, go-kart, compressori e motori per il gardening. Nomi del made in Italy conosciuti a livello internazionale che hanno scelto il nostro pistone per il loro motore. I pistoni Meteor sono interamente prodotti in Italia, a partire dalla fusione che è realizzata nella nostra fonderia di alluminio, nell'azienda associata a Kader, con macchinari di nostra progettazione e con una tecnologia ricolata molto avanzata. Parte dei trattamenti che vengono fatti sui nostri pistoni, come il bisolfuro e la stagnatura, vengono pure realizzati presso quest'azienda, che è anche il nostro produttore di segmenti in visa. Siamo ora nella divisione fonderia. La progettazione dei pistoni si realizza in condivisione con l'ufficio tecnico della Meteor Piston. Qui si avvia la prima fase di disegnazione e la successiva progettazione degli stampi. Nella nostra fonderia viene realizzato l'intero processo di fusione in gravità dei pistoni e dei cilindri, colata, smatterrozzatura e trattamenti termici. La colata viene eseguita con una moderna tecnologia su macchine automatiche di nostra progettazione ed anche di realizzazione. Adiacente alla fonderia si trova il reparto di attrezzeria, dove viene costruita una parte di stampi ed eseguita la loro manutenzione. Nello stesso reparto abbiamo il nostro servizio di assistenza e manutenzione macchine che interviene e supporta le attività produttive di tutta l'azienda. Qui sono state realizzate la maggior parte delle macchine del reparto segmenti e della fonderia. In quest'area è stato recentemente attivato un impianto di verniciatura per l'applicazione del riparto di bisolfuro sui pistoni finiti. Meteor Piston investe ogni anno una grossa percentuale dei suoi ricavi per l'adeguamento tecnologico dei macchinari, degli impianti e dei sistemi di controllo. La nostra produzione utilizza macchinari sempre all'avanguardia e di ultima generazione. Tutte le lavorazioni meccaniche sono eseguite nello stabilimento dove ci troviamo ora nell'area metropolitana milanese. La produzione, come già detto, è flessibile e combina sia i grandi volumi in serie destinati agli impianti robotizzati, sia i piccoli lotti, gestiti con linee di produzione dedicate. Per alcune operazioni la Meteor Piston ha progettato e realizzato macchine speciali che non sono reperibili sul mercato. I pistoni Meteor sono soggetti a continui controlli in process per garantire la correttezza di produzione e vengono testati a file processo con strumentazioni di misurazione molto sofisticate e moderne. La nostra competenza tecnica offre ai clienti un servizio completo per lo sviluppo di un prodotto su tutti i livelli. Possiamo infatti eseguire analisi metallurgiche, reverse engineering dei campioni, progettazioni CAD di pistoni e segmenti, progettazioni in 3D, la progettazione delle attrezzature specifiche. Garantiamo ai nostri clienti un servizio rapido sia per la consegna di ricambi aftermarket che di prototipi di nuovi prodotti. Viene infatti attuata una rotazione continua fra la produzione, magazzino e grazie a una fast line garantita da nostra fonderia interna riusciamo a provisionarci velocemente di fusioni. Da qualche mese la gamma di prodotti a fair market viene gestita con due magazzini verticali automatici ad ampia portata che interagiscono con il nostro programma gestionale ed agevolano le operazioni di prelievo e di evasione degli ordini. Un sistema nato per velocizzare le operazioni logistiche in modo più rapido e sicuro. Grazie a tutti.